Un libro sotto le stelle, Festa della Cultura ad Albanella in provincia di Salerno dal 21 al 27 agosto per la decima edizione della Rassegna Nazionale Editoriale, tra i protagonisti, scrittori, poeti e giornalisti come Magdi, Cristiano Allam e Tonino Scala. Grande attesa anche per il libro La musica fa crescere i pomodori del maestro Beppe Vessicchio e per il generale Mario Mori, fondatore e già comandante dei Ross con il suo ultimo lavoro, oltre il terrorismo. È un'occasione per proporre un turismo colto, un turismo di qualità. Saranno sette giorni in Tenzi che si svolgeranno in una piazza al centro del paese, che è Piazza Garibaldi. Durante questi giorni verranno accolti autori importanti, ne ricordo soltanto alcuni, Magdallan, il generale Mori, Vessicchio. E sarà anche l'occasione per una proposta gastronomica e di musica, di grande musica. Abbiamo preferito trasferire come location da Maioria a Dalbanella, proprio in considerazione che la cultura non ha colori, non ha location. Per chi abbiamo presentato dei libri nell'arco dell'anno qui ad Albanella, mi sembrava corretto e giusto trasferire e festeggiare qui il decennale, proprio con il sindaco Iosca, che si è sempre dimostrato attento alla cultura. Grazie a tutti.